Musica Figliera corta per una produzione familiare, il produttore la vendeva direttamente al consumatore a chilometro zero come va di moda oggi. Non si tratta però di un'azienda agricola ma di un'organizzazione di spaccio. Nei guai è finita un'intera famiglia di Pian Camuno, l'operazione dei carabinieri della compagnia di Breno sotto la guida del capitano Filiberto Rosano che in poche ore in due diverse operazioni hanno arrestato 9 persone e sequestrato oltre 5 kg di stupefacente. Oltre alla famiglia Camuna nei guai sono finiti anche 3 marocchini che spacciavano significative quantità di cocaina tra la bassa valle Camonica e l'alto Sebino. A Pian Camuno l'operazione è stata studiata nei minimi particolari. Già lo scorso anno infatti una 23enne del paese era stata fermata con un notevole quantitativo di erba prodotta in casa. Siamo a metà agosto del momento del raccolto della marijuana così i carabinieri si sono messi sulle tracce della giovane ed hanno fatto un'interessante scoperta. Tutta la famiglia, due fratelli, la madre ed il compagno di lei, uno zio ed un cugino coltivavano erba in casa e rifornivano il mercato della bassa valle Camonica vendendo marijuana anche a giovani e giovanissimi. Sono in corso indagini per verificare se tra i consumatori vi siano minori ma pare abbastanza evidente che sia così. Il primo ad essere stato controllato il 48enne, compagno della donna, una cinquantenne del paese, fermato mentre andava al lavoro. In auto aveva 220 grammi di marijuana. Nella casa che l'uomo divide con la sua nuova famiglia erano invece nascosti quasi un chilo e mezzo della stessa sostanza. Nell'appartamento di Vissone dove vive la 23enne, nel sottotetto, sono state sequestrate una ventina di piante di marijuana dell'altezza di circa un metro e mezzo ciascuna pronte ad essere raccolte. A quel punto l'attività di ricerca è stata estesa all'abitazione dello zio dei due ragazzi vicino a casa loro. Qui i carabinieri hanno trovato un barattolo con 35 grammi di erba e 3.000 euro in contanti. Nel sottotetto altre due serre che erano appena state smontate. Le serre erano tutte attrezzatissime con tanto di impianti di illuminazione, aereazione e tutti gli accorgimenti necessari a garantire un buon raccolto. Infine nella camera del nipote, un 29enne pregiudicato, anche lui residente come il resto della famiglia a Piancamuno, sono stati sequestrati quasi 3 kg di marijuana e 2.000 euro in contanti. Per tutti e sei i parenti accomunati dal lobby per la coltivazione fai-da-te dello stupefacente è stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di Artogne. Non è andata meglio a tre giovani marocchini di 24, 19 e 25 anni, due dei quali probabilmente appena arrivati in Italia richiedenti asilo, che hanno raggiunto il fratello di uno dei due, già arrestato altre volte per detenzione e spaccio di droga, che sono stati pizzicati mentre trasportavano cocaina dalla Bergamasca verso la Valle Camonica. Anche questa operazione non è nata a caso. I militari del capitano Filiberto Rosano infatti da tempo monitoravano gli espostamenti dei tre che movimentavano significativi e quantitativi di cocaina fra l'Alto Sebino e la bassa Valle Camonica. Così sono andati a colpo sicuro. I due nuovi arrivati, infatti, fermati in auto, avevano nascosto sotto il cambio 80 grammi di cocaina. Il resto, due etti di cocaina e 10.000 euro in contanti, i carabinieri li hanno trovati nei due appartamenti dove vivevano i tre ragazzi. Il capo della banda era il più grande dei tre in Italia da tempo, che aveva assoldato i due giovani connazionali come corrieri. I tre si trovano ora in carcere. Con queste due operazioni, dopo l'operazione Lucignolo, che a fine giugno ha portato in carcere 23 persone implicate a vario titolo in traffici e spaccio di droga, i carabinieri della compagnia di Breno hanno assestato un altro duro colpo al mondo dello spaccio che resta una delle piaghe del territorio Camuno-Sebino.